Nel 31 a.C., all'età di soli 19 anni, Ottaviano sconfigge Antonio Ecolopatra ad Azio, ponendo fine a 50 anni di guerre civili. Così Ottaviano Augusto dà inizio ad una nuova forma di potere, il Principato. I poteri sono accentrati di fatto nelle mani di un'unica figura, ma la res pubblica rimane in piedi. Quello di Ottaviano Augusto è insomma un impero senza imperatore. A differenza dei suoi predecessori, Sille e Cesare, Ottaviano riesce a riformare la res pubblica, mantenendo formalmente il sistema repubblicano, ma di fatto accentrando il potere nelle sue mani e trasformando tutte le istituzioni. In che modo? Proviamo a scoprirlo insieme. Dalle res geste Divi Augusti, il testamento politico scritto dallo stesso Augusto dal 2 a.C. al 13 d.C., sappiamo che egli ottenne contemporaneamente più poteri. Innanzitutto il comando politico e militare dell'impero. In secondo luogo si assicurò il potere di convocare il Senato e i comizi dal momento che ricopriva contemporaneamente più cariche, tra cui quella di console, pretore, triunviro. La somma di tali privilegi costituisce il paradosso della monarchia mascherata. Roma è formalmente una repubblica, ma di fatto un governo autocratico. Tale sistema si basa su tre pilastri fondamentali. Il primo è quello della res pubblica restituta. Terminate le guerre civili, Ottaviano restituisce al Senato i poteri speciali che gli erano stati concessi per sconfiggere Antonio. Egli ripristina, almeno nella forma, l'antica Costituzione repubblicana fondata sulle magistrature e sul Senato. In secondo luogo il principio dell'autoritas. Ottaviano è superiore agli altri magistrati e agli stessi senatori, non perché detiene un potere speciale, non per potestas, ma per autoritas. L'autoritas è il prestigio che gli deriva dall'aver salvato la Repubblica dalle guerre civili. Per questo, nel 27 a.C., egli si fa conferire dal Senato il titolo di Augustus, che sancisce la sua superiore autorità rispetto alle altre magistrature. Infine, l'ultimo pilastro è costituito dall'Imperium Proconsolare Maius e dalla Tribunicia Potestas. Egli può infatti controllare tutte le province dell'Impero e orientare a suo favore l'attività legislativa del Senato e dei Consoli, proprio perché ricopre contemporaneamente questi due poteri. Grazie a tutti.